E salve a tutti ragazzi del vostro Zettino e del vostro Mac e bentornati su Overcooked 2 Ehi, tanto, sei sicuro? Sì, guarda, non sto cagando il gioco, sono sulla schermata di Xplik, recording locally, siamo a 855 frame, quindi sì Perfetto Perfetto Io ho cambiato il mio personaggio perché questo era il mio personaggino nel primo e quindi di conseguenza Siamo tornati lì Seleziono lo slot che vuoi, tanto non funziona Infatti dicevo Perché è buggato Ho la scelta che ho avuto Cristo Comunque, perché eravamo da Kevin 6? Non ne ho più pari di idea, credo che alla fine si sia fatto a Kevin 6 Ok, dove dobbiamo andare? Mi credo di tornare a casa Tornare a casa? Sì Vediamo Non mi ricordo più la voce di... ah no sì, ok me la ricordo Oui Ora mi riconosco Eh 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 Sì, non è essenziale E' essenziale la comunicazione dovevi... Altrimenti sarete cibo per pesci, dice Kevin, non fare il maleducato L'hai detto chiaramente con l'inflessione dell'altrimenti sarete cibo per pesci, no? Eh sì, certo Buona fortuna Ok Via che ci avevo fretta Andiamo Oui Quindi dobbiamo andare a nord Quindi dobbiamo andare verso il nord Cucinare la polenta, la bagna a cauda, ho capito Eh perfetto Non vedo l'ora E sushi Ma non so, ha fatto i giapponesi, ha fatto il dipartimento giapponese della Team 17 in questo gioco Sì, diciamo che siamo un po' tristino per la varietà del nostro cibo E io lo dovrei fare, a parte succare Cosa ci serve nel frattempo? Aspetta, lascia del riso No, il riso lo prendo io Io devo tagliare le zucchine Allora, io algo, perché mi sembra che sono tutti dalga Oh shit, ho sbagliato il tasto, scusa Eh, devo prendere il riso Sono tutti dalgare i piatti Ok Io faccio dei... Arrivo No Ah, tieni, ti entra? No! Madonna, Mac Entra Come entra? Entra, fidati Che io devo andare di là Ok Ora, fai quello che vuoi No, devi consegnare i piatti Serve un cetriolo e un pe... Quello è già pronto E poi tonno e cetriolo Tonno e cetriolo E io non posso darti una mano Ok, va bene Ah, perché prima sono caduto Aspetta, che intanto cuocio altra roba No, aspetta Vai C'è ancora cetriolo da fare C'è cetriolo da fare Ok, bravissimo Così, almeno sei più libero È che non giochiamo di tipo tre settimane Quindi ho dei problemi a capire come sono io Poi passami una carnazza tagliata che la metto a cuocere Arrivo Passale là Anche due ne vuoi? No! Vedi? È quello il problema Fai così Te Comunque Eh, non la posso prendere io lì Cosa me la fassi lì? È vero Ok Di qua puoi passare Vai, due Fatto Prendi questo e mettici il tonno Arrivo Devo ritrovare i miei tasti È un disastro Presta, ma fa anche un casino Allora Ci serve un altro? Un altro? Non lo so più Non credevo Ok, va bene Intanto ce l'ho pronto già Guarda Serve solo che tu tagli gli ingredienti E io sono pronto Eccolo Aspetta che sta cuocendo la carnazza Ne ho fatte due Ne serviva una Ma così ce l'abbiamo già pronta per il prossimo Ti metto già il panozzo Guarda, ti metto già anche l'altro Così Cioè, c'è due piatti pronti Anche se non servono come ora Allora, ok Allora, il piatto Serve Prima un disagio burger Come mestizia Guarda Aspetta Fatto Andiamo Poi La zucchina E prende il piatto Non mi dare il piatto Eh? Non serve il piatto Ok Quindi ti serve l'alga E il riso cotto Ok Poi Preparo già Carnazza la taglio La carnazza è già pronta Fre Già pronta, è già qui È già fatto anche il disagio Guarda Serve solo il piatto La lancio E poi serve un pesce Aspetta Fre Che non ti Che non C'è l'alga lì Per terra E il riso Che non posso Togliere dal piatto È qua Ok No Sì, giusto Sì, sì, sì Vai, vai Non riesco a prendere C'ho la carne davanti Ok Poi Lavati un piatto E qui c'è il disagio burger Già pronto Prenditelo Era cielo buco Stavo arrivando Ok, perfetto C'è il disagio già pronto Vai Mestizia Continuo a cambiare Rilavo Qua c'è un pesce Adesso taglio un altro pesce Abbiamo due ordinazioni Arrivo Qua ce n'è uno già assemblato Ci manca solo il piatto Cioè non è assemblato Non vedo Questo? C'è tutto Se il tappetto sotto Non posso fare niente Ok Ci manca il riso Il riso Il riso Ok Perché c'ho la carne Potremmo avere il tempo Per un altro coso Se la vi impianto Ce la fai È pronto Vai Fre L'alga E il riso E il riso E il riso No E l'ho mancato Fuuuck Porca miseria Addio Ma mi ha fatto così poco 3 stelle Però mi viene un po' di tristezza Secondo me ci fosse organizzato Vabbè A parte il fatto che Dobbiamo ancora Prendere un attimo la mano Qua Secondo me Potevamo fare tipo 800 Una roba del genere Però no No 800 no 700 ci credo Sì Ma perché siamo ancora un po' Non siamo caldi No Credevo mi ha presi un Kevin E detto No Uii Uii Cos'è? Cos'è? Vedo pomodori Insalate Cos'è? Panini? Qual è la difficoltà dello stage Secondo te? Il fuoco Il fuoco Tutto grazie a quella Fara lì in mezzo Allora Serve Ecco me Tutti i hamburger Questi Ma questi nomi Non ce li ho pronti Lo dico Allora Quello è un Tutto È un complesso Il servizio è complesso Eh no Ma c'è il pomodoro Non c'è Ah no No è vero Non c'è il pomodoro Cazzo Ok Quello è già pronto Serve solo il piatto Poi Intanto preparo Il resto Cazzo Arrivo E dov'è? Ah Oh no Prende il fuoco là È buono Gli hai dato l'odorino Esatto Beh dipende se ha CO2 Magari è anche bello tossico Speriamo Allora Tanto ci metto questi E ci va l'insalata Oddio Oh Che cazzo Arrivo Ok Quello è pomodoro Il panino è già pronta la carne Vai È pronta Dai Sposto Tolgo questa io Lavo il piatto Poi Mestizia I piatti usati dove cazzo sono? Mi sto lavando Ok Sì sì Merda Trento Tranquillo Ci sono Porta Mestizia Poi c'è Un fromage Un fromage Un panetto Un fromage Un panetto Un fromage Ok E tanto lavo i piatti Ho già fromaggiato Un piatto Oh cazzo Aiuto Aiuto No vabbè Ma questo è da figli di puttana Che stronzi Sì Ho fatto volutamente lì Eh Vabbè Sti fiodena Madonna mia Che fiodena Eh sì Arrivo Fred Ok No 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 Eh fuck No ce l'ho Sono fuori Vai è pronto Il panino vai Come ci arriva l'estintore Laggiù Boom Dove l'estintore Qui Allora Ti ho spruzzato un po' in faccia Tutto bene Panino Insalazza Quello è cos'è? Dove è il tagliere zio? È solo la tagliere Perchè come si chiama Insalate pomodoro Eh in teoria è il completo In teoria è il completo Sì Eh guarda No mi manca la carnazza Se Ah c'è qua c'è Questo è un tagliere? Ah ok Sì Pronto Guarda se ce la fai A tagliarne una E lanciarmene un altro Di cosa? Di panne Di cosa? Di formaggio Eh di scusa Di hamburger Perfetto Bello che rimbalza sul fuoco Giusto Molto senso questa cosa Eh Ok lì c'è Ok Manca il pomodoro Fred Devi tagliare il pomodoro Ah il pomodoro Posso fare No Non mi piace Ce la facciamo? Sì 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 No Forse no Liberami Go Non ce la facciamo Vai 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 È libero Ok Disagio pronto Vai Pronto Il disagio Vai disagio Questo non è pronto Lo taglio io Ce la faccio No forse no Ok Ce la faccio Forse no Non posso arrivare Allora I piatti non sono tutti sporchi Lavo Lavo tutto Ok Il piatto è pronto La carne Vai ti lascio spazio Preparo l'istintore Aspetta Mettiti a sinistra Mettiti a sinistra Vai pronto Vai No come pronto Vai No Fuoco di merda Niente il fuoco Comunque ancora quello Va a portare Ah no era quello Sbagliato No no era giù Era comunque quello Quello dopo Ah ecco Ok perfetto Non c'è tempo per fare nient'altro La facciamo Sto livello È stronzo da morire Cani maledetti Proprio strategici Ma sempre più fuoco Tra l'altro Non so se hai notato Si aumentano Non credo Che sia così fuoco Non sono convinto E invece E invece Abbiamo sbloccato Un nuovo chef Si Oh Lo chef aquelino Esatto Che caruccio Infatti è lo chef Che ha vinto Il concorso Miglior naso Degli chef Per 5 anni di fila Ehi Allora Oh no Cosa C'è un enorme buco Grazie 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 Non lo avevo notato Ti ringrazio Perché sei proprio Questa review Così in profondo Guarda Guarda le luci Che danno No vabbè Ma Dotti d'oro È una luce abbaiante E la battuta Di oggi Per Tema canina L'abbiamo fatta Fre Ah Tagliere Va bene Perché aspetto Che mi guidassete Carne Fungo Portami dal fungo Aspetta Vai Vai Lanciami di là Arrivo È il problema che devo stare fermo Quando lo fai È un casino Ok E i piatti I piatti sono qui Ok è volino Lì c'è il piatto Un golo piattino Ok Ok Allora Il taco dove cazzo è Ah trovato Bisogna cuocere la carne Moooo Scusa Non mi portare giù No vabbè Che qua secondo me Secondo me qua facciamo un piatto Se va bene Un piatto solo Ma che cazzo fai I funghi Già tagliati Mettili in padella Già tagliati In padella Perché servono i padellati Anche quelli Mattone Non so Che disagio Vai Ok Torniamo dal taco No no Prendi Prendi tutto C'è il piatto Prendi il piatto Così Non l'estintore Ok Questo Taco Pronti Allora Taco Riso Pronti Bellin che conducente Ok via Pi 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 Allora Fungo Tacco e fungo Tacco Taglia il fungo Ci ha messo quattro piatti agli angoli Perché sanno che Intanto Più di quattro piatti Vai Cosa prendi i piatti Vabbè Eh devi darmi Cuoci il fungo Ah il fungo va cotto È vero Prendi il piatto Mettili Prendi il riso intanto Che è già lì Riso Che è Tacca Perché sta finendo Tacca il riso Tacca il riso Tacca il riso Funga il taco Funga il taco Tacca il riso Tacca Amanda Tacca Amanda C'è un pollo Portami su Elevami Non c'è tempo Non c'è tempo Non c'è tempo Mai nella vita Ciao Eh va bene Va bene Allora calma Allora io riso tutto intanto Allora Risa tutto Non manca Ok Ok poi Pollo Pollo prendilo E fungo Vai Fungo Fungo Ok Taglia tutto Taglia tutto Ma attaccami Perché non va Aspetta bruciatutto Oddio Vai vai Ok Portami dal taco Nel frattempo Si E dal piatto Cos'è il mio Non ci abbiamo il piatto E non dobbiamo dare il giro Aspetta un attimo Ok Fungo Devo tagliare il fungo Ok No No In padella Fungo e pollo La paura Fa 90 E prendi l'altro piatto Già che ci sei E l'altro piatto qua Ok Portami dal taco Nel frattempo Si Prendi il taco Ok Tacca il piatto Risa i tacchi Risa i tacchi Non Risa quel cazzo di Cazzo fa Ok Ok Va bene Andiamo Lasciali Prendili Ah Perché quel taco Pone il fungo Il taco E polla l'altro Prima va il fungo Perché il taco Non si polla No Prima fungo Pollo Sia questo L'altro Rimane Vai Vai A carnare Andiamo a carnare Carne E pollo Carne E pollo Vai Taglia Pollo al taglio Carne al taglio Eh no Taglia Carne al pollo E pollo al taglio E carno Ok Oh il pollo Dove Aspetta Aspetta È rimasto la No Aspetta Dai di nuovo Di nuovo Di nuovo Dovevo entrare Dovevo entrare Casino Prè Pronti Buon ordine Riso I risi Riso Mancato Vai nel secondo Oh io nel frattempo Mi ciulo un piatto Non importa L'ultimo riso Porco Il riso nel piatto Prendi Uno di tutto Carne Cosa Funghi Andiamo Via Portami Vai Liftami Via Via Taglia quello Scendilo Ok Torna su Torna su Ok Ora poi via Aspetta Uno Due Eh Prendi il piatto Via Prendi il piatto Tanto ci serve Via Uno E prendi il piatto Prendo io No Taki Risi Taccabanda Tanto da risare Tutto lo stesso Vabbè risiamo È vero Ok Tutto cotto Vabbè tutto cotto Andiamo Ok Su Taki Vittaci verso il cielo Via Ups Mancato il tacco No Oh no Come è successo L'hai dato un calcio L'hai spinto giù Ma come Come il tacco Vabbè Vabbè fre Prima questi due c'erano Ora il polo Possiamo rifarlo Vai Come si è distaccato dal cosa Quello che voglio sapere È distaccato dal piatto Tutto Due polle Vabbè Vai taglia Via E tanto c'ho la carne Miseria Ok Eh bisogna riportarlo giù Prendi il piatto Ok Vai di risi Non c'è riso Lo so che non c'è riso Fre È un casino Spostati Vai Aspetta Vai Non c'è Dove lo prendo Ma prendi il coso Piccato Che cosa Mettilo qua Ah vabbè È pronto Arriva Aspetta che questo è pronto È pronto Ok Ok Questa fai Il pollo Fred Il pollo da cuocere Cuocimelo Anche il pollo Via Ed è pronto Aspetta E questo brucia Vai Poggialo Ok Non credo Ce la possiamo fare Tu vai Un tanto prendere carne No Già fatto Già andato Niente Rifacciamo 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 Porca troia Allora Riso Subito Sì Via Ah fai tu Che manovre te Vai Perché cosa Almeno Te lo prendi Io li manco Perché Ok Poi Avevamo lo stesso Joypad Ti ricordo Va bene Nel frattempo Però il mio Non sta in piedi Non sta più in piedi Via Ok E il fungo non ci serve Perfetto Non importa Rimane lì Via Risi Spingimilo Perfetto Ok Andiamo su C'è l'altro piatto E ci sono i tachi Tacca Tacca Ok Perfetto Nel dubbio Stacco uno Vai Aspetta Riso Polli Da cuocere Carne da cuocere Pronti Poi Portami un po' Dal pollo E dalla carne Si Serve altra carne Carne E E E E E' già tagliato Il fungo Quindi Taglia la carne Vabbè Dopo Non c'è tempo Allora Uno è il pollo Prima va il pollo Porto io E la carne Portala tu Vai Ok Poi Taglia la carne Taglio io Io volevo Prendere il piatto Aspetta Prendi il piatto Mettilo nel fungo Devono cuocere Devono cuocere Devono cuocere Palle Vai Anche i funghi Mi serve il Mi serve il riso Spingimi dal riso Dov'è? Lì Questo Ok Esatto Alto riso Non ci arrivo Spingimi Liftaci Ok Ok Metti lì Carne prima Prima carne Ok Via Riso pronto No quello non è pronto Quello non è pronto Ora si Via Lo metti lì Perché si Vai via Boom Ultimo piatto Ora abbiamo Da lavare i piatti Per l'eternità Dai Come mai In due si fa prima Nel frattempo Tacca Si può fare veloce? Eh un lavoro a quattro mani Si sa Ok Ok Vabbè questo è di troppo Ok Eh il polo col cazzo Vai al funghi Andiamo a funghi Come andiamo a funghi? Ah Il polo col cazzo Il polo è finita Ok Il polo non è fattibile Pronti Ok Ok Guarda se mi spingi un attimo Vabbè prima mettiamo i funghi Spingimi verso il riso Si Aia Ok Ok Allora Funghi 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 Aspetta Abbiamo già il riso pronto Così mettiamo due cose in uno Via Pronti E questo è cotto Via Non abbiamo tempo Vai 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 E vai Carne E pollo lo prendo io Vai Ti odio tantissimo Sappilo Abbiamo tempo per farne uno Mi sa Vai Prendi velocemente quella Metti a cuocere il pollo Ok E intanto taglia la carne Mi dimenti che c'è tempo Ok Ce l'abbiamo Vai Metti Non abbiamo più piatti Non abbiamo più piatti Ne serve ancora uno Vai Lava Lava ne uno Predi tacchi Mac È qualcosa Ok Stanno facendo insieme cose Via I piatti No è bruciato Merda No Non è bruciato Non è bruciato Eh no ma è che è fuori dal piatto Eh sì è un chettino però Ebbene lì ho mancato la porta Ho mancato la porta Ho mancato il piatto Abbiamo fatto tipo 16 milioni di miliardi No È vero abbiamo fatto un punto Vabbè Fre Questa la possiamo chiudere qua direi Direi che ce la possiamo fare Ce l'abbiamo fatta Vabbè Comunque tre stelle sempre Ciao Esatto Comunque Quindi se vi è piaciuto l'episodio Metti mi piace E Iscrivetevi al mio canale E iscrivetevi al canale di Mac Glitcher Che trovate in descrizione In cui troverete il prossimo episodio Ovviamente Se volete sostenermi Iscrivetevi a Patreonv.patreon.com Slash Mazzincazetta 1.2 E slash Glitcherud Io ringrazio i miei Patreon Leone Thomas Shento B Superbisqualo E Mech Cascino Noi ci vediamo alla prossima partita Che sarà sul canale di Mac Come già detto Quindi Alla prossima ragazzuoli E Prossima Ciao Ciao Ciao